non so se avete notato che ho fatto durare il prescio 12 minuti però vabbè al di là di me che sono stupida è sì rilevata e lo so lo so purtroppo è così nintendo è così nintendo è così mastermind sì 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 vabbè ovviamente chi guarda youtube non lo vedrà però vabbè sappiate che è durato 12 minuti allora 12 minuti e questo gioco io non lo conosco nel senso che so che c'è un time loop che è una sorta di puzzle narrativo e che c'è di mezzo un orologio mi direte vabbè ce l'hai davanti no intendo dire che a quanto pare c'è tipo un orologio nascosto mi ricordo questa cosa però non è che c'è da fo quindi da fo da qualche parte però non l'ho mai giocato ho detto ma sai cos'è è una settimana non voglio dire di buco però comunque non sono finalmente uscite robe grosse recuperiamo qualcosa perché no giusto alla fine secondo me si presta anche io cercherò salvo chiedere esplicitamente aiuto magari di non guardare troppo la chat perché lo so che avete tutte tutti i pruritini voi tutte le manine che prudono che dovete dirmi cosa fare prima cioè c'è chi c'è chi dice cosa fare alla persona che sta giocando prima ancora che si ponga il problema cioè se chi sta giocando ha difficoltà e dice ragazzi che devo fare aiuto va bene ma c'è gente a volte in chat non parlo di voi parlo in generale che scrive cosa fare prima ancora che si arrivi a cosa fare è una cosa assurda quindi chiaramente questa roba in un gioco dove suppongo ci sia bisogno di un minimo di pensiero laterale non saprei potrebbe rovinare l'esperienza e cercherò di essere più concentrata focus possibile di sbirciare il meno possibile e vediamo un po il balsic in 12 minuti prima esatto e tra l'altro esatto ed esattamente non è neanche un gioco nuovo quindi c'è pure questa cosa l'acqua mi dà continua penso che sia voluto perché io non l'ho mai giocato penso che visto che un time loop cioè non puoi proprio ricominciare in teoria perché ho provato prima a qua c'era avanzate resetta cancella progressi ma non cambiava nulla c'è restava comunque il continua quindi penso che sia giusto così nel caso dico ci siano dubbi vi faccio vedere così a trasparenza vedete non non ho nulla non l'ho mai giocato quindi non so perché mi dia un continua vabbè abbiamo un po sì l'ho già finito palestamente non blind adesso vedrete primi x cox oddio perché avrebbe perché tipo punta e clicca io sono col controller però ovviamente e punta e clicca pianta e devi ci pisci che fai sasso finto sposto il cursore sulla parte in alto per aprire l'inventario sasso finto che me ne faccio del sasso finto a messa più sgrazie tra l'altro tra l'altro meno una il lumicato esatto tra l'altro devo ringraziare anche lili prima o ii ii no penso sia lili sono molto che sono molto curiosa di vedere come affrontare questo gioco se dovrò guardarlo su youtube cross jade anche se ci sono di meno per le live ci sono comunque ed è micolash buon salve anche a te scusate non l'avevo visto perché sono partita a cannone premi all'esterno dell'oggetto selezionato per uscire no vabbè bravo trascina e rilascio per com'è gli oggetti con gli altri quindi tipo faccio ah beh perché lo fa tipo come se fosse mouse giustamente come se fosse un mouse devo usare il controller come se fosse un mouse però aspetta un secondo devo abbassare c'è la possibilità di abbassare la sensibilità infatti abbassa la sensibilità il cursore perché altrimenti impazzisco me l'ha salvata ok allora fin qua molto meglio adesso si ma già sta vabbè posso fammi vedere un po' fammi spippolare allora piatto ma se l'infila nell'inventario vabbè ma ancora tazza lavandino tazza nel lavandino non lo so ah ma è per bere però non lo so io mi rubo tutte le cose va piglio tutto che c'è? che è? che è? che libro è? ma dove l'ha fatto sparire? oh no try me you're gonna make fun of me it's a book of meditations zen stuff yeah it's not my thing ecco sonniferi sonniferi niente bagno io ora sto toccando tutto apposta eh per capire no no la smetto la smetto eh chiudila ha capito chiudila non la chiude posso entra qua vai ma stavano sono pazzi posso no niente ci ho provato what the hell I'm doing ah oh no ho rovinato tutto ho preso il regalo c'era un regalo nascosto hai rotto le palle che sta facendo ma che schif- no 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 ma che fa no no è passato il tempo merda prendi il cucchiaio come cu- no no apri il cucchiaio attaccalo non lo fa prendi il coltello usa il coltello sul vabbè sei una merda comunque seppure compenetrà e niente lo so le scarpe sul letto se mi nascondo entra entra chiudi 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 non pensavo dormi non pensavo dormi non pensavo dormi chi si è regolito dal giame di dolci Cristo è ma grazie grazie è una giornata a te si vabbè io pensavo un minimo magari lo feriva gli sparava niente ah siamo rimasti perfetto abbiamo dormito nell'armadio ma perché ah perché già lo sappiamo ma però adesso lei non sa che noi siamo qua mi yes you hands behind your back let's go hold still hey oh yeah i i i don't know what this is a mistake uh-huh i i you you must look i i i don't know you don't handcuff me we we can talk about this Sì, ci saranno. Io... Non... Non lo so, Laura, ma... Non lo so, non lo so. Questo è un errore. Questo è un errore. È un errore. C'è un errore. Sì, non lo so. Sì, nessuno qui? Sì. 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 Ma io vi aumento il più volume... Oh, oh! Questo ha girato un secondo e aprile a calci! Oh! Be' honest with yourself. You knew this would happen. There's no cavalry coming. Nobody's gonna save you. If you want to live, tell me where the watch is. This is your very last chance. It's... 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 In the vent in the bathroom. Under the menace... Good girl. There's no way to go. If you want to have the right... ...I'll give you what you want. And I'm sure to have any of you... I swear... I... Ok, now... You're gonna let me go? What... Easy now. Big breath in... No. No! Sì, sì, certo Si è sparata, certo Sì, sì Ci stiamo credendo tutti Sì, sì, sì Vabbè, adesso riparte No? Si è andato? Beh, in realtà Non ha questa certezza lui Più che altro quella cavia è molto rotta Porta, porta Vabbè, vai, vai Calpesta tua moglie morta, non ti preoccupare Dov'era? Ah, qua Ah Quindi era qua Ok The more you know Ma Ma st'interruttore che chiaramente serve a qualcosa Ma io intanto il regalo me lo prendo Posso usare il regalo su mia moglie? No Aspetta, ho un'idea Ugo, basta Posso fare? Posso cenare? Posso Posso mangiare il dolce? Ah Perfetto Perfetto Buono Mangia, mangia Mangia, mangia, mangia Tu sta salute No, no Mangia ancora Mangia ancora Non è a posto Senti, ma mi posso suicidare? Con i sogniferi? Tipo No, no, no L'interruttore No, no Vabbè, non importa Non serve Allora Ecco Fai così Fai Fai Dopo Senti, facciamo le cose Tranquille No Fammi Vabbè La tazza Va bene Che c'è? Ma facciamo finta di Ma secondo me se le faccio vedere il regalo Tipo Tipo Non mi posso parlarle Dire sembra lo stesso giorno Dire il poliziotto fa le domande sul suo passato Altri argomenti Sembra lo stesso giorno Perfetto Dimostra che la giornata ricomincia Provalo in qualche modo Eh Con il regalo Ma non me No, no, no Ah, era Ah, intendeva il temporale Forse il temporale La finestra Devo, devo Vabbè, sì Grazie al cazzo Ah, no Ok Ah No Eh, vabbè Perché non mi ha dato Non mi ha dato il regalo Io l'ho beccato prima Ma Eh, no Deve darmi il regalo prima Mi sa Eh, vabbè Niente No, eh, vabbè Forse devo fare finta di niente Poi mi Dai, basta No, arrenditi Arrenditi Ancora Arrenditi Abbandon- Arrenditi Posso fare le mie cose adesso? Ah Dai Ok Si è arreso Vediamo Allora, poi Aspetta Guarda Faccio così No Porca Metti La tazza La tazza Così Vendi il dolce Mangiamo Così poi mi dai il regalo Eh, eh Posso dire Perché secondo me Non lo so Secondo me Oddio Posso provare a darle il regalo? Posso provare a darle il regalo direttamente? Che fa? Che fa? Perfetto No, ho sbagliato la stanza Eh Se dove si incazza? Così si incazza Se dove così si incazza? Fiore Dov'è il fiore? Dov'è il fiore? Dov'è il fiore? Fiore 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 Di mostra Prova in qualche modo Regalo Tieni Eh no Ecco infatti Eh no Ma lo devo aprire Devo No lo devo aprire Devo Deve darmelo Deve darmelo E deve sapere cosa c'è dentro Ok Facciamo finta di niente Però adesso non me lo dà Perché ce l'ho io A meno che non me lo fa aprire comunque eh Mi c'è stronzo Moglie E' il momento Perfetto per il dolce Ecco Oh no What? Cosa? Mi padre ha avuto un attacchio. È un sacco, ragazzi. C'è lui? 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 Lo picchio... Niente, pensavo di poterlo attaccare col dolce, ma non è funzionato. Allora, di che sei innocente chiedi riguardo l'accusa di omicidio, ma non mi sta sentire. Eh no, vabbè, devo sicuramente fare dei passaggi, devo fare tutto a posto, tutto tranquillo, così poi lei mi dà il regalo. Non la devo indisporre. Poi lei mi dà il regalo, io lo apro, so cosa c'è dentro, così poi le posso provare che c'è il time loop dicendole che cosa c'è dentro il regalo. Se le faccio vedere il regalo diceva che sei uno stronzo. Di che sei innocente? No, no, le accuse... Cosa è che siamo accusati? Cosa è questo? Esatto. Non posso. Che fa? Che fa? Che sta facendo? Che sta succedendo? Che sta facendo? Che sta facendo? Che... Cos'è... Cos'è successo? Quest'ultimo scambio, non ho capito. Lei si è chiusa in bagno e lui... Deve fare la pipì. Così? Perchè ora c'era con me? E lui? E lei? Ho paura. Tutto con la porta aperta, comunque. Vabbè... Morta? Perchè è sega, comunque. Non è riuscito a prenderlo manco di spalle. Emanuele, grazie. Vabbè. 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 Facciamo tutto per benino. Il coltello me lo ciavo. Si sa mai. Tazzo. Non so se... Non credo che servano le tazze, sinceramente. Cioè, forse la tazza serve per i sunniferi. No, pover... Ma poverina. No! Abbiamo le due tazze? A posto. Vabbè. Ti faccio la speedrun. No, no, no. Cretino. Qua. Tac, tac. Polaroid? Sì, ma non la vedo. È buia. È ritratta la fotografia. Capito? Vabbè. A quanto pare serve pure la Polaroid, però non adesso. Probabilmente è qualcosa che riguarda il passato di lei. No. Si vede che era un abito ad apparecchiare. Ecco. Divano. Sì. Momento perfetto per il dolce. Io mi siedo. No. No. Ma io immagino che serva pure l'interruttore. Vabbè, piglia la scossa. Cioè... Che cosa fai? Per meno che non esplode e parte un incendio, ma non credo. Allora... Allora, è tutta tranquilla. Va bene. Vabbè, sicuramente la posso impasticcare, però non è che muore. Grazie per aiutare con la tavola. Eeeh. Attenzione. Va bene, ora mi dà il regalo. Mangiamo il dolce. Mangiarsi il dolce con la moglie morta è stato... Ma non è un poliziotto. Ovviamente. Fa finta. Ha detto polizia. Ma... Non era un poliziotto. Era per farsi aprire. Poi magari è veramente un poliziotto, però di certo non è lì con un mandato. Poi... Quando ci sono i testi per essere solo i testi? Ho qualcosa da comprare. Un testi e una presenta? Quando è questo, il mio annaccio? A direzione. A direzione. Quindi? Vestiti da bebe? Baby clothes? Si. Oh che bello Questo rende ancora più terribile Retrattivamente l'idea Del tizio che la prendeva a calci Per quanto comunque ragazzi Cioè se è incinta di una settimana Due calci in pancia non fanno niente Cioè il bambino di un paio di giorni È una cellulina Cioè non succede nulla Il problema se già c'è comunque dopo un po' Però dico insomma Non so da quanto è incinta lei Più che altro se arriva a sapere già il sesso Quello è un problema Ora non so se lei ha fatto il volo pindarico E ha già deciso che sarà una bambina Vediamo Vediamo Eh Sì wow sì So Non lo so Perché Dalia Quindi già sai Ok questo Eh Posso dire che è estremamente tossica questa cosa Comunque della moglie Che decide il nome Della madre Che dice il nome del figlio Senza nemmeno consultare il padre Tipo Ah comunque sono incinta e si chiama Dalia E se maschio sti cazzi Vabbè ok Cioè questa nasconde qualcosa Questa nasconde qualcosa Questa è veramente La serial killer Mi sta tutto bene? Stia vibrando tantissimo lui Comunque No Adesso distruggo quella radiolina comunque Eccolo che arriva Nasconditi No Non Non visto All right, all right, easy I don't know Okay I Am Your father's murder eight years ago Can't be right shut up You know what this is now Where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else Uh-uh, no playing dumb Tell me where the watch is I'm not lying Please don't hurt us Honey, tell him He can't help you Just you and me Tell me where the watch is And we all go our separate ways I'm telling you I don't know about any watch Okay Let's just see Look, I I don't No 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 No, no, no no No, no, no No, no, vabè, nonché si prendano se la prenda con quello Più debole Please non lo scusate per favore per favore per favore per favore per favore oh f*** era brutale oh dio sei ok sei ok sei ok sei ok e allora ok a questo punto penso di avere a disposizione la possibilità di convincerla perché se le dico del tuono se le dico del regalo se le dico cosa c'è dentro specificando anche che c'è il nome sul vestitino suppongo che lei si possa convincere ma che pro cioè posso anche prendere l'orologio ma che pro quindi adesso dovrò fare degli esperimenti posso fare diverse cose che mi vengono in mente allora convincerla del time loop prendere l'orologio per chiederle qualcosa riguardo all'orologio a questo punto forse i sonniferi non l'ammazzano perché così su due piedi non li posso usare sul poliziotto il polizio poliziotto non credo che il poliziotto si beva un sorsetto di acqua fresca dal lavandino quindi non le posso nemmeno impasticcare posso fare bene lei beve lei beve lei beve un sorso prima quindi la posso fare andare a dormire se la vado se la faccio andare a dormire e quindi non apre la porta e io mi nascondo il poliziotto entra e poi che faccio mi pare di capire che non posso prenderlo di spalle cioè anche se ho provato a prenderlo di spalle ma 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 vabbè una cosa per volta adesso io direi eh proviamo a vedere che succede se lady faccio se la convinco che so che la cosa è già successa tanto mi inculo il coltello hey there si bacino va bene bacetto si amore si si va bene poi eh teoricamente basta cioè posso già chiedo del libro gusto per ok noi già sappiamo del libro di meditazione perchè ce l'ha detto ok a suo padre piaceva il libro ok attenzione va bene va bene poi moglie secondo me qua è vaga secondo me non serve adesso non ho niente quindi potrebbe essere la polaroid però forse devo scoprire altre cose allora la giornata ricomincia mh been there been there va bene dimostra dille del tuono ok forse non devo prendere il regalo devo dirle del regalo se le prendo il regalo si incazza cosa che non mi crede ok eh provalo in qualche modo eh moglie provalo eh vabbè eh vabbè tua mamma carrettiera devo prendere il regalo per forza prendiamo il regalo io spero che non si incazzi ah regalo ah l'anticipation oh guarda tieni provalo si 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 guarda guarda un regalo ok 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 dai adesso sicuro l'ha presa molto scialla l'ha presa molto scialla l'ha presa molto scialla va bene e adesso che facciamo va bene e ora che fa le domande sul passato eh da capito se era mentirosa del merda continua a chiedere io glielo vado a prendere io glielo vado a prendere si adesso tocle no 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 armatieri correttino qua questo dai come che no ben eeeh usa no vedi qua corro devo farlo di nascosto vedi qui qua ma che cazzo fa devo farlo di nascosto devo chiudere la porta ecco mi 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 I'm with the police Oh All right Thank you What's going on? I have a warrant right here It's very easier if you cooperate Hold still You're hurting me Ow Help me Will you come help me? Well who come help you? My friend So Someone is here I don't know Hello? This is a mistake Police Come on out Babe Will you help me? This is a misunderstanding Look I I don't know Don't have to hand with me Non è il tra You're making a mistake Don't fucking move No No Non è andata Come volevo Provate Ma non se ne va Con l'orologio Viva Posso provare Guarda Guarda Ah ora chiude la porta Ho l'orologio Signore Eh Sì Ok No ci ammazza Comunque Ci ammazza Comunque Sicuro There we are Thank you for understanding Why it needs to be this way Ecco No 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 Vendetta per qualcosa Vabbè quindi E allora Riuscirò a riempire la tazza Prima che mi bacia Yes Speedrun Ok Allora C'è nella luce Poi voglio provare una cosa Cioè Cosa serve sto interruttore Perché serve sicuro l'interruttore Eh Oh my god Ok Questo è interessante Ok 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 Questo è interessante Ho perso l'occasione Però Ok No perché era ovvio Serviva qualcosa Eh vabbè però Ho perso la Vabbè Quindi lo posso Sordire Però il mio dubbio è Scusatemi Ovviamente Lui Il poliziotto Perché io avevo il dubbio Tant'è che ho spento la luce pure per questo Ma ovviamente lui Poliziotto Io mi sono seduta sul divano Ma lui non è Non ha acceso la luce Prima di afferrarmi Ovviamente Non avrebbe motivo di farlo Per cui anche ammesso Che io mi nascondo Quindi lui non mi vede Allora faccio Faccio Doi sonniferi a lei Doi sonniferi a lei Mi nascondo Lui arriva Nessuno Suona Non apre nessuno Sfonda la porta Entra Va nella stanza di lei Cioè io le faccio Lo spegni e accendi Così poi le spengo la luce O comunque Lei spegne la luce Per andare a dormire E lui prende la scossa Ma non è Perché lui dovrebbe Accendere la luce? Cioè perché lui dovrebbe Interagire con l'interruttore? Perché l'interruttore Serve chiaramente Per il poliziotto Non serve per mia moglie Non serve per me Ovviamente Serve per il poliziotto Serve l'unica maniera Per incapacitarlo Da quello che mi pare Di aver capito Perché i sonniferi Non glieli posso dare Il coltello non funziona Il cucchiaino Non penso nemmeno Sia efficace Potrei fargli prendere la scossa Quindi può essere Un'ingenuità Perché non vedo Il motivo per cui lui Debba accendere la luce Se lei dorme Cioè se vedi Una tizia a letto Metti che dorme Prima la leghi E poi ti assicuri Se è viva Se è stordita Se ha preso La droga Per dormire Perché metti caso Il tempo che accendi la luce Si sveglia E ti salta addosso O ti stava speciale Ovvio che se hai Ma cattive intenzioni Vedi una persona a letto Non accendi la luce Però Forse un'ingenuità del gioco Forse un'ingenuità del gioco Per cercarmi Può essere Per adesso L'unica cosa Mi viene in mente Del time loop È per avere informazioni Comunque per adesso Perché forse Mi servono Delle informazioni Che poi posso avere Tra l'altro C'è pure Ancora la polaroid E Il telefono di lei C'è ancora il telefono Di lei pure Vabbè Allora Una cosa per volta Ehm Allora Uno Passo uno Tanto Qua non mi vede Lei non mi vede Regalo Po Esci Porta Chiudi Porca miseria Sta cos'è L'armadietto È difficilissimo Cliccarci Griglia Non mi vedrà Griglia Coltello Spero che non mi senta Ok Orologio Perfetto Usciamo Andiamo a confrontare La mogliettina Brava Allora Moglie Senti La giornata ricomincia Provalo Si è messo in piedi Ehm No no Provalo Ah devo Sì Ok Il tuono No Troppo tardi Però Oh Aspetta Però Aspetta Oh Il regalo Ok Cioè è molto più valido Quello chiaramente Del Ok Ah deve avere per forza due prove Dai Non ti incazzare Dai 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 Bello Comincio Ok Stiamo andando avanti Ok Non serve il tuono Non serve il tuono Non serve il tuono Quindi comunque Sta parlando Non serve Non serve Non serve Non serve Non serve Bello che lei si sono palesamente sovrapposte a due cose. Vabbè, verrà interrotta perché lui sfonderà la porta. Bigliazzi, sono sovrapposte a due cose? È tipo... Lei è sciallissima. Ma noi, ma che cosa sta succedendo? Ma ho perso l'orologio, ce l'ha lei adesso. E... Madonna, che sega comunque. Che sega. Eh, lo so, allora. Ehm... Forse deve essere più veloce. Forse se sono più veloce... Intanto guardo... Vestiti. Sì, senti. Fammi vedere un secondo. Almeno ne approfitto un secondo perché... Oh, f***a! F***a l'orologio! Niente. Ce l'ho come una pausa. Giorni fa? Ah, due giorni fa, eh? Allora, vabbè, qui cosa non ce ne sono? Io posso fare le chiamate, però... Non servirà a niente, figuriamoci. Cos'è il 911? Certo non è il 113. Vabbè lo fa fare. Ma ha saltato... Abbiamo saltato un dialogo, abbiamo un'informazione che non è vero, perché non ce l'ha detto! Cioè, ho capito che stava andando a parare là, che l'aveva ucciso lei, aveva sempre le pistole in giro, lui la picchiava, allora lei ha preso la pistola e gli ha sparato, ma non ce l'ha detto! Eh, vabbè. Merda! 15 minuti? 15 minuti? 15 minuti? Niente. Io ho pensato adesso... Ho detto questo perché? Perché se dicevo del poliziotto magari non mi prendeva sul serio, se le dicevo sono con un assassino, magari, capito, pepe al culo, però non ha funzionato. Cioè, io neanche pensavo... Io pensavo fosse una cazzata. Cioè, io pensavo fosse una cazzata. Nel momento in cui ha detto che ha ucciso suo padre otto anni fa, ho fatto capito che no, invece un'informazione che il gioco non mi ha dato, cioè o meglio me la considera già data, ma non me l'ha data, perché il dialogo non è finito. Quindi non abbiamo mentito, cioè io l'ho scelta pensando di mentire, ma in realtà non ho mentito. È la realtà, solo che io non l'ho sentita. Vabbè. Allora... Posso che... Ok. Allora, posso provare... Posso provare... Vabbè, ora ha scoperto che lei ha ucciso il padre. Non è vero, l'abbiamo scoperto, l'abbiamo intuito. Che quindi lei ha ucciso il padre, però non sappiamo che è successo dopo. E... Ha un passato oscuro. E posso provare a farla dormire, la stunno. Venezia. Esci. Esci, esci. Allora... Ok. Beh. Ah no, ho sbagliato, merda. Sì, 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 aspetta, ti devo drogare. Il poliziotto. Beh, allora, chiudo la porta e che secondo me mi vede. Chiudo. Chiudo. Tac. Tac. No, porca. Apri. Scusate se non vi sto leggendo, sto cercando di... Di fare tutto più, diciamo... Di fare tutto più, diciamo... Ok. Vai. Ciapa. Ole. Esci. Esci, 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 esci. Guarda, guarda. Amore mio. Tazza con pillole, va. Guarda che bella cosa che ti do qua. Hai sete, vero? Lo sapevo che avevi sete. Bevi, bevi. No, hai sete, amore. Classica cosa che fai quando... Quando... Leggi un libro zen. Interessante. Bevi. Non beve. Dai, dai, bevi. Dipinto. Dipinto. Non è sete, eh? No, let's talk later. Dai, bevi. No, bevi. Perché me ne faccio delle chiavi, ragazzi? Le ho già prese le chiavi, ce le ho io. Non sono queste? Non ha bevuto! Ah, forse se chiudo la porta ho più tempo. Porca troia, ma perché non ha bevuto le chiavi? Io l'ho fatto saltare sicuro parlando. Ho fatto sicuro a saltare parlando le. Come on, I know you're home. Open the door. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Beve sempre, oh. L'unica volta che non ha bevuto. Incredibile. Oh. Che cazzo sta facendo? No, no. Niente. Non mi riusciva a farmi cliccare. È tipo un pixel. Dove devi cliccare. No, no, no. Poliziotto, poliziotto. Sir, sir, sir. Wait, 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 wait. What is it that we're being accused of? Quiet. No, no, no. I'll deal with you in a minute. No, no, no. Niente, non posso dire niente. Listen, I don't have anything to do with this. You can't do this. I guess I don't need you. Please, listen. Ah, così va diretto a strozzare. Secondo me io ho fatto no, io ho fatto soltare la bevuta. Ho fatto soltare la bevuta. Allora, io mi inculo, una tazza. Non le devo parlare, non le devo parlare. Senti, ciccio. Viglia di la tazza veloce, questa stronza. No, dai, ragazzi, non ci vogliono tre minuti per sfondare una pochetta. Porta, non arriva la polizia. Semmai, chiudendo la serratura, riesco a finire il dialogo con la moglie. Semmai. Non arriva la polizia. Abbiamo dodici minuti. non ci vogliono tre minuti per aprire una porta di merda. non ci vogliono. Non mi faccio. Sì. Non ho sentito. Non ora. Ok. Ah, posso, posso mandarla a cagare, comunque. No, 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 aspetta che mi vede, per carità di Dio, per carità di Dio. Chiudi sta porta. Allora, le ho inculato tutte le tazze, non può bere. velocissimo. Ciapa. Fa. Tac. 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 Esci. No, 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 che serratura. Porta, 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 porta. Porta. Guarda, guarda, so che è sete, 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 sete. Guarda, 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 guarda. Guarda. Oh, le. Divano. Oh. Io pure il coltello. Dai, 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 dai. Eccola. Perfetto. Bah, perfetto. Cala, cala. Tesoro, parliamo un po'. Parliamo del tuo passato. Ehm... Chiediamole della tata. Vabbè, ovviamente lo faccio, se è blu, non mi dice niente. Che palle. No! Oh, ecco, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sì, sì, vai a dormire, va. A posto. Serratura è chiusa, perfetto. Lei si è stesa. Poi. Ok. Trappola. Fatta. Oddio. In realtà posso pure la lascia, aprirgliela. It's locked. Ah, no, no, it's locked. It's locked. Sì. Puoi aprire? Eh. Dai. Così entra prima. Non c'è un motivo da aspettare. Chiudi. La posso dare io la tazza? No, non c'è. Addirittura dite che se ce la può la luce accesa pensa che c'è qualcuno. Dai, per carità. Come on, I know your home. Open the door. Eh, posso provare, posso provare. Se chiudo la serratura, magari lei mi parla di più. Dai. Suka. Suka. Ah, si è spaventato perché pensa, madonna. Ehm, allora. Sì, sì, he's just passed out. Sì, sì, he's just passed out. Sì, sì, he's just passed out. Beh, spero, stai zitto. Stai zitto. Che qua mi devo segnare il numero di telefono di tua figlia. Ehm. Che cosa vuoi Cazzo Allora Adesso siamo noi gli stronzi Sì Sì And here Sì 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 Let me go! Look, I know about the pocket watch. Congratulations! Let me go! You'd kill us for it? Are you even real police? Hey fuckhead, you attacked me. You don't have moral high ground here. What are we being accused of exactly? Let me go, right now! Fuck! Don't! Oh God! Jesus Christ! Stop! I'm not fighting you. What do you want? What do you know about the nanny? Who? La tranquillità! Non ha minimamente reagito a un colpo di revolver nella coscia. Dai bro! Sto collaborando! E dai bro! Non ha sentito niente! C'è! You really don't know! No! Your wife! Her father! Closest thing to family I ever had! You knew him? Know him! He taught me everything I know! He was good to me! When no one else was! And that monster murdered him! Chiedi del rapporto col padre di tua moglie! Ah! Ok! Il padre di mia moglie! You knew her father, right? Yeah! He was... Good to me! He taught me a lot! I owe him this! Now will you please untie me? What are we being accused of exactly? You really have no idea! You really have no idea! Eight years ago she murdered her father in cold blood! Why would she want to do something like that? Why would she possibly do something like that? Money! Jealousy! A million reasons! You should ask her! Okay! How did her father die? Her! She shot him! She shot him! Christmas Eve eight years ago! He didn't kill him though! Then on New Year's Eve she came back and finished the job! Two shots! Close range! Ah! E beh! E' già la cosa si fa più pesante! Perché mi dici! Papà era violento! Avevamo un brutto rapporto! Mi picchiava! Un giorno era preso male! Eravamo nella stanza con le armi! Distinto ho preso la pistola! Ho sparato un colpo! L'ho ucciso! L'ho preso male! L'ho ucciso! Non volevo! E' una cosa! Se poi mi dici che l'hai rotto e poi è finito il lavoro con due colpi e sei un po' una merda! E sei un po' una merda! Perché il colpo di testa, l'incidente, l'istinto di sopravvivenza, la paura, l'adrenalina... Però lì questo è premeditato! E sei un po' una merda! E non che mi sia meglio però... No, ti faccio morire di sanguato! Pensate che ridere... Perché noi non possiamo saperlo... Se... Se la morte del poliziotto interrompe il loop... E ci ritroviamo... Col morto in casa! Con la porta aperta! Accusati di omicidio! Spostati in un'assassina! Perfetto! Perché sei ancora dopo lei? È stato tanto tempo! Non ho mai stoppito! Ho trovato un po' di tappo! Mi mostro qui! Chi ti dici il po' di tappo? Chi ti dici il po' di tappo? Il po' di tappo che aveva! L'apaccio che aveva! Ha cercato di vendere al po' di tappo! Dio che sei inocento! Che discorso è il cazzo? Ehm... Ehm... Coltello! Revolver! Senti, ma... Ehm... 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 Ma io non penso di poterlo salvare! Oh f***! Ehm... Ehm... Ma non penso sia bisogno di legargli i piedi sinceramente perché io ho sparato alla gamba eh! Ehm... Ehm... Per curiosità posso legargli i piedi però... Ehm... Ehm... Infatti non c'è motivo di farlo! Listen up! Sono innocenti! Ehm... 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 Noé... I' Forse... Niente, fine d'altà. Pensavo di fargli vedere la foto. Allora. A questo punto... Abbiamo il numero di telefono della figlia di lui. Che sicuramente dovremmo chiamare. Non so perché. E posso chiedere un botto di roba a nostra moglie. Ovviamente. Però lei mente. Il fatto è questo. Lei è una bugiarda di merda. Quindi... Posso provare a fare una cosa. Se io chiamo la tizia... Magari faccio perdere tempo al... Al poliziotto. Ci mette un po' più di tempo. E poi magari parliamo di più. Allora. Telefono. Allora. 4, 1, 3. Secondo me mi sente comunque. 3. 5, 5, 5. 0. 1. Tanto è difficile. Il telefono di merda. Il telefono di merda. Come? Come? Era giusto? L'ho scritto male. 4, 1, 3. Ho scritto male. Forse l'ho scritto male prima. Dai. L'ho scritto male prima. Ok. Non è detto che non abbia funzionato, eh? Non è detto che non abbia funzionato. Poi. E poi mi serve... La porta. Sudo. Ok, non voglio che mi rompa il cazzo. Madonna, quanto è difficile. Guarda, come si mette a ravanare. No! Cretino! Oh, è complicato. Dai! Clicca qua, topi. Piglialo, piglialo! Ha preso? Ha preso, ok. Sono deficiente! Apri. Oh, apri. Salve! Eh... È troppo tardi, però. Vabbè. Tesoro. Sì, bacetti, bacettini. Bacini, bacini. Sì, sì. Sì, è la best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Sì, sì. Sì, sì. No! Veloce! Noi! Cacca tutto! Sì, via, via. Allora, senti. Moglie. Moglie. E... Dimostra che la giornata ricomincia. Certo. Provalo. Let's see. Allora. Venga. Va bene. How could you know? I mean... Sì. Sorry, I know you need more. Give me a sec. Sì. You know what? Forget it. No! Porca puttana! Quanto è intuitivo sta cosa! I'm telling you that... Again? With this? Sì, again. Provalo. Let's see. I found the watch. I know you've been accused of killing your father because I've been living the same ten minutes over and over. I need you to tell me what really happened that night. I don't even know where to start. Veloce però perché non c'è tempo. My dad wasn't always the man he wanted. After I was born, my mom... And I guess... Oh... Cosa me l'hai già raccontata? Cosa! Sì. Sì. Niente. Acceleriamo le cose perché tanto non... Ma qui non ha... Facciamo prima così, va. Sì. Oh my God! Ah! Ah! Jesus! Fuck! 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 Oh! Ok! I'm ok! I'm ok! Fuck! 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 Ho provato a chiamare ma non è servito a niente. I didn't hear me come in. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Yeah, I won't. Ma l'ha sfondata comunque con una facilità. L'ha mandato nessuno. No! Cretino! Chiudi la porta! Serratura! Ho selezionato la serratura! Perché? Perché seleziona la serratura? Chiudila! Oh! Oh! Questa non è una questione di controller. Ormai siamo diventati... No! No, 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 no. Eh, ma non so... Eh, ma dalla moglie. Polaroid. Polaroid. No, non si può usare la polaroid sulla moglie. Ah, ok. Quindi posso fare vedere la polaroid al poliziotto? Polaroid. 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 Non può bastare l'orologio, no, eh? Che pa- No, no, dai, 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 dai No, no, non è funny per niente Dai, guarda, guarda, ti faccio vedere, guarda Guarda qua C'è detto, l'orologio, qua Cazzo, è il regalo, ce l'ho già io? Il regalo, il regalo Mi lo scorda, tieni Ma non mi devi raccontare, lo so già, non la voglio, la storia, non ti ho detto che lo so già, la storia del... Sì, 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 litigavamo per ieri, accidenti, difficile, raccontami la vigilia. Sì, 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 le pistole, le pistole, ecco, oh, ok, esatto, è sopravvissuto, merda, non c'è tempo, esatto, Ma non ce l'ho più io? Ce l'ha lei, la strozza, ce l'ha lei! No, no, la vuola rende! poliziotto 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 Ora posso chiamare, posso chiamare la figlia e dichielo. Ora posso dire che c'è stato il malintenso e magari la figlia lo chiama. Il rapporto col padre di tua moglie, non mi ascolterà mai, vado a fa'culo. E lo sapevamo! Ma la mia strazza! Vabbè. Non puoi fare questo! Ho fatto... Allora. Allora. Ok, è più facile. È più facile. È più facile. L'importante è crederci. Allora, Polaroid. Polaroid. Poi. Serratura. Coltello. Ma vi... Non posso chiamare la figlia! No! Non ora. Ok. Non me la farà fare... No! Non me la farà fare mai! Non me la farà fa... Chiudi la porta! Non me la farà fare mai! Stai zitta! Stai zitta! Chiama! 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 Chiama la bambina qua! Allora... Tu sei innocente? Chiama in automatico? Ti piace proprio quell'armadio? Tu puoi aiutare? I mean... Fine. Mamma mia, ok! Ok, ha funzionato! Ha funzionato, mamma mia! Eh, quindi posso andare direttamente... Allora... Ehm... Quindi... Beh, facciamo... Facciamo così. Ecco, ma... I vicini che si fanno tutte le chiacchiere del mondo... Posso... Vedi la porta... Porta... Serratura... Porca proia, non dovevo spiegare l'interruttore... Vai! Ehi! Tutto un discorso... Tutto... Tutto un discorso... Vabbè... Perché anche... Perché? Perché? Continuano a parlare fuori dalla porta... Continuano a parlare fuori dalla porta... Non tu! Oh Gesù! Non ho abbastanza di spiegare l'interruttore. Te? Puoi? Apparire? Per favore! Grazie. Ok. Sei un coglione... Chiudi... Ah, vai! Vai! Allora... Nia, 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 nia... Tesoro... Allora, moglie... Moglie... Qua dobbiamo fare un discorso... Eh... La giornata ricomincia... Certo... Dille cosa è successo la notte in cui è fuggita... Non mi ascolta... Ok, quindi forse non devo rifarlo più... Ok, forse ho fatto un passaggio di troppo... Forse mi permette di... Ok... Non serve più... Non serve più... Meno male... Meno male, meno male... Meno male... Meno male che c'è lo shortcut, ok? Non raccontarmi... Ok, non c'è... Forse non c'è bisogno... Non c'è bisogno di... Fare tutta la baradana e va diretta... Però, ora... Sì, tolto me... Sì, parliamo... Parliamo del passato... Ok... Perché ha provato a vendere l'orologio... Perché ha... Allora... Di che la perdoni, non me ne frega un cazzo... Perché ha mentito sul passato... Dove ha preso l'orologio perché ha provato a venderlo... E più dettagli in merito all'omicidio... Perché ha provato a venderlo... Perché il più dettagli in merito all'omicidio... Perché vado a venderlo... Nooo... Nooo... Ok... No... 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 Ma almeno se l'ha chiamata... Li starò a sentire... Li starò a sentire... No... No... Come hai got to go? Come hai got to go? Ma che cosa dici, cretina? Cosa stai facendo? Deficente! No... Mi sento? Che stai parlando? Si parla... Ok... No... 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 Eh... No... No... Guarda Guarda Sir dai dai La polaroid Ma perché La polaroid Mi ha picchiato Volevo fargli vedere la polaroid Mi ha picchiato Allora Allora Devo fare chiamare la figlia Devo fare chiamare la figlia Io adesso ho più informazioni Quindi allora posso saltare un sacco di passaggi Perché so già del padre Quindi non devo fare tutto il giochetto del regalo Cazzi e mazzi Posso Allora devo sicuramente far chiamare la figlia Devo chiamare la figlia per fare chiamare il padre Così lui è più calmo E mi sta a sentire Il problema è Mi sta a sentire come Devo comunque legarlo Clezzon Eh lo so Lo so Lo so Assolutamente Già Già segnato Assolutamente Non credo Cioè non penso di doverci andare con lei cattivo Forse sì Però no Perché non avrebbe senso Cioè se mi dice Li sto a sentire Forse ho sbagliato io Però mi sembra stra Che ci vado con la polared così E lui si tranquillizza Perché pensavo di dovergli parlare Lui ha detto Li starò a sentire Ho provato a parlargli Ma c'erano sempre le stesse opzioni A me viene da pensare Allora se gli chiedo come sta la figlia Mi manda affanculo Che sono innocente Mi manda affanculo L'unica cosa che posso provare è Chiedergli del rapporto col padre Ma se non si incazza Se non si incazza E infatti lui Cioè a me viene da pensare Che forse lo devo veramente legare per forza Perché con la moglie Penso che bene o male abbiamo Non dico esaurito Però abbiamo Già tante informazioni Ci serve per forza la polaroid Per dimostrare Che è innocente Quindi potremmo provare a fare Tutto il lavoro Di farla addormentare Lui fa il suo discorso De merda Senza ferirlo Lo leghiamo e basta Senza sparargli Gli facciano vedere la polaroid E magari ci dà altre informazioni Perché c'è ancora la tata Però magari è più collaborativo Quindi quello che posso fare è Faccio il sonnifero Faccio il sonnifero Così le va a dormire Chiamo E aspetto Quindi salto tutto il passaggio Di chiacchiera con lei Che non serve a niente Che poi posso La cosa Teoricamente Uno non dovrebbe poterla fare La chiamata dell'armadietto Lei dovrebbe sentire tutto Quindi allora Facciamo Facciamo sta cosa Allora Lo già fa Tazza Uno Tazza due No vabbè Non l'ha fatto Aspetta No 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 Non c'è No non c'è Non c'è Non c'è Sì sì Rude Va bene Poi Molto rude Porta Parmaglietto Sornifero Tua mamma Sornifero Tazza Poi Ehm Prego Vai Vai Drogati Andiamo Vai 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 Frigo Polaroid Posso fare qualcos'altro Dalla Polaroid Mi sa di no Ok Questa foto Dimostra che è innocente Vai vai Stanca Vai vai Entra Sì 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 Ma io non ti voglio parlare Tranquillo Mado Che bello shortcut Fantastico Grazie per avermelo detto Perché non ci sarei mai arrivata Sì Tua moglie è innocente Va bene Ok Questo è fatto Poi Porta Porta Entra E facciamo tutto il giochetto Ok A posto Così Metto qua Nin Chiudi Aspettiamo Al Ugo 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 Now we wait Ora arriva Poi è lui da foo E lui è da foo no? Honey I think you got prank call What they did they threaten you? Listen to what? Oh ok I'll listen to him But honey Eh sì è lui da foo Cioè Ci sono due persone Cioè da foo E uno ha la stessa voce Da foo Ma a me sembra lui proprio Ora papà va a fare Un duplice omicidio Però è gentile Come on Come on You want to talk? Let's talk What the Oh santo dio No 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 Poliziotto Io non gli faccio niente Voglio solo parlare Voglio Voglio solo parlare Ok Voglio solo avere Un'amabile discussione Va bene Ma intanto Tu sei ammanettato Ecco Adesso vogliamo Oh She's innocent Don't make me listen to this shit Provi it Top Pi Ciapa Polizio Ecco 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 Let me go Guarda la foto Tornuto Look at the picture Again with this Si My wife is innocent She took this Shut the fuck up Release me right now Oh Oh You Listen Oh Oh You little shit Can't open up The biggest Stake your life Vabbè Niente Devo per forza One chance Allora mi aggredisce ovviamente Sir Mi fa interagire Dai Il fatto è che Devi farlo come vogliono loro Cioè non è che Non è che dici Hai più opzioni Devi farlo come vogliono loro Cioè Finché non gli spari E lo leghi soltanto Lui sa benissimo Che è nel torto E stava partendo Per ammazzare Per cui se io semplicemente Ti lego E ti dico Voglio solo parlare Tu mi stai a sentire Cioè non esiste che Non c'è proprio verso Di comunicare Cioè per quanto mi riguarda Col senno del poi È molto più credibile Che tu mi stai a sentire Da legato Piuttosto che Così Però Vabbè Non si fa Allora probabilmente Probabilmente Ho sbagliato Prima io Con la polaroid Dovevo Dargiela subito Con una Con una Incastratura Che decidono loro Andiamo Cioè bastava Che mi facevi Una cosa del genere E c'erano Delle Dialoghi Leggermente diversi Magari Ma io Distinto Sapendo Cosa è in grado Di fare Non è che dice Una condizione normale In cui no Voglio solo parlare Con una persona E chiarirci Noi sappiamo E abbiamo già vissuto Anche proprio di trama Più loop Noi sappiamo Che lui È Molto Malintenzionato Che non sta a sentire Che è violento Che non si fa Non si fa problemi A A uccidere Anche a mani nude Estremamente Rancoroso Aggressivo Per cui è normale Che lo leghi Anche perché Se non lo fai Se non lo fai Lui ha Le manette La pistola E il coltello Cioè non è Disarmato E quindi rischi Che ti prendi Un cartone in faccia Cioè noi già sappiamo Che lui è armato Sia con arma bianca Che con arma da fuoco Quindi è normale Che lo rendi Innocuo Inoffensivo Prima di Vabbè Porca miseria Vai Chiama Oh Fuck Fucking light switch Hello Hey Hey You're dead Please My wife I don't know what you want Hey He doesn't have the Okay Allu Sì 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 Ok Vabbè Questa è la prova Che è innocente Io per una mano Vivo pure L'orologio Ah no Spero un po' So Cioè è molto carino Però È molto basilare Cioè non è che Ha chissà quali Per adesso Senti ma Moglie Parliamo un secondo Um I'm stuck Look How he I don't know It was Christmas He hit you How I I Look On my Oh God Look I Please Talk to me Perché Perché ha mentito Sul suo passato La perdono La perdono Yeah I Guess They were close Fuck What do we do E se non apre la porta Che succede Si incazza di più Appunto Perché dovrei dirle Di non aprire la porta La porta si apre Comunque Degono Non si apre Anzi si incazza Se non si apre la porta Scusami Non posso fare Nient'altro Perché mostrare La polaroid Non serve a niente Angolo di crazy Grazie Non voglio Nessun dettaglio Su l'omicidio Di tuo padre Ma ci ha sentito Centomila volte Non posso uscire No 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 Non funziona Così Perché è uscita Non ha parlato Con la figlia Devo farla parlare Per forza Perché deve Temporeggiare In maniera tale Che non sclera Perché se sclera Ok Quello che posso provare A fare è Sedare la stronza E parlare con lui Così che lei Non rompe il cazzo E sta ferma Mentre io parlo Con lui Perché Che è? Niente, la siedo! Cioè, prova a parlare con lui con lei sedata cioè, non, non... Tanto lei non serve a niente alla conversazione magari lui sta più calmo se lei è sedata, no? Non l'aggredisce, vede noi Va bene, baci, bacini Sì, 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 ti amo anch'io Sei incinta Ti do le pillole fanno sicuramente bene al bambino Dai Porca miseria le manine di burro Apri la fila Il tuo frigo di merda Apri Polaroid Perfetto Poi Sì Prendi Vivo Progala Ti do pazza con le pillole Perfetto Perfetto Telefono 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 Cazzi miei Chiama Si, sì, sì Farà del male Perché Innocente Sì, sì, sì Sì, sì, sì Vai 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 a dormire Vai a dormire Vai a nina Ma Io non vorrei che noi gli ho dato le pillole Ce le ha messe le pillole Ce le ha messe le pillole Io ho paura di no Porca miseria Non ce le ha messe Non ce le ha messe Non ce le ha messe Non ha sete Adesso non ha sete Adesso non ha sete Porca puttana Che palle Posso uccidermi Guarda Ehm Oh Oh I forgot to call the landlord Am I doing that tomorrow? Dite che basta uscire Per ricominciare il loop Wait Uh What Hey Hey Babe What the fuck Are you kidding me? Not Okay Rude Non ha saltato il La cosa L'ho fatto troppo veloce Ok Adesso Ci sono le pillole Però Tazza con pillole Ok Moglie Perfetto I'm just I'm so tired All of a sudden Hello Hey Please Oh My wife I don't know Hey You doesn't have Okay But lose Ma Eh Lei ha chiuso la porta? Ok Lei ha chiuso la porta Ehm Allora Io In teoria Ho tutto L'ho chiamata Lei non rompe il cazzo Ehm Adesso lui arriva Non lo so Gli parlo? Me ne sto sul divano L'aspetto Ehm Posso provare a prendere l'orologio Così giusto per essere sicuri Tanto lui comunque abbiamo tutto il tempo Perché comunque adesso C'è la chiamata Lui non entra subito Sto per essere sicuri Ma Teoricamente Siamo arrivati al punto in cui dice Provalo E avevamo la pola Ma lui era legato Quindi era incazzato E non ci stava a sentire Che accanto Continua a dire Con una stronzata Perché mi hai letteralmente detto Provalo Cioè non è un Vai a fanculo Non ti sto a sentire Sì Provalo Ti do la prova Vai a cagare Come vai a cagare Ma se mi chiesto di provarlo Ti do la pola Mi devi stare a sentire Scusami Allora non dire Proofit Dimmi Vaffanculo Magari ci sono Delle cose Che non ho visto Vabbè Allora Facciamo passare Il tempo Egg Ora aspettiamo Sì Hai una bussa Apro la porta Ma se è tranquillo Siamo tutti pacifici Educati La moglie non c'è Quindi non rompe il cazzo Va bene Perfetto Siamo tranquilli Apriamo la porta Sì Salve Ok Let's talk Let's talk No No Ma no Ma Listen Sir Sir Sure Sir Sir Sure Listen Sure Sure Don't fucking move switch ma'am what the hell is this you fucking called my daughter and give you one chance there's a watch oh thank tell me where it is di che lei è innocente listen to me she's innocent she wasn't even there I don't want to hear it I'll prove it where's the watch I'm telling you she's innocent all right that's enough I'm out of pain sir mi strangola a morte non c'è nessuna scelta c'è una strada specifica che hanno deciso gli sviluppatori senza la minima elasticità devi per forza avere la voglia sveglia lei non deve sclerare quindi la devi continuare a fare parlare perché lei non deve uscire di casa devi tenerla tranquilla ultimo tentativo se non funziona la manda a fanculo ve lo dico ultimo tentativo perché non è possibile che due coglioni che deve essere esattamente come dicono loro cioè li sto sentire lui neanche lo sapeva che c'era se c'era non c'era la moglie ho aperto la porta mi ha aggredito perché allora qui un secondo che devo fare perché non devo sbagliare ho la polaroid la moglie non ha bisogno di niente perché la convinco subito quindi niente devo solo vabbè prendo giusto per perdere tempo posso prendere il regalo prendere l'orologio e chiamare la ragazza non mi serve nulla vabbè la tratto bene che non si sa mai e magari si offende bacetti sì sì ok sì allora ho sbagliato pure vabbè perfetto rude d'accordo allora è peccato perché è una bella idea però è proprio una roba troppo lineale che non è la minima scelta devi fare per forza come dicono loro cazzi miei sì 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 oh oh il mio vado non lo so hey non lo so ok lo lo so allora a questo punto anche perché io posso dire a lei di non aprire la porta ma perché dovrei dirle di non aprire la porta? Qual è la funzione di non aprire la porta? se non di far farlo incazzare ancora di più la apre comunque la porta cosa serve chiudere la serratura? dirle di non aprire? la apre comunque cosa sono tre secondi in più di tempo tesoro dimostrale che la giornata ricomincia sì so che ho morto tuo padre so tutto quanto sei beccata ti ha colpito lo so va bene lupo d'accordo sono alla tua parte dalla mia parte oddio non lo sapevo non so come dirtelo va bene parlami ti parlo ti parla per carità che è le crisi poi parliamo parliamo parla del passato la perdono ti forgivo sì sarebbe bello è tutto terribile sto soffrendo perché hai mentito perché hai mentito perché hai mentito la polaroid a lei perché sì ma non è una cosa intuitiva adesso lo so vabbè sì però vaffanculo cioè allora questo non vedo la cazzo di polaroid però non ha senso questa cosa perché allora perché lui mi dice prove it cioè non doveva essere un doveva essere un vaffanculo io con te non ci parlo cioè se mi devi dare un indizio che io non posso fare niente deve essere lei a risolvere il problema lui deve dire vai affanculo io con te non ci parlo non provalo poi li do la prova che vuol dire prendi sta polaroid di merda tieni 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 no no aspettiamo stai ferma te ne andare guarda la foto stai ferma si stai ferma ok io comunque a lei l'avevo data la polaroid una prima volta secondo me ci sono sovrapposte cose perché ve lo rio io l'avevo già data la polaroid a lei non è la prima volta che gliela do sono probabilmente basta che tipo passa col mezzo si è troppo tardi quella roba e non funziona perché comunque io a lei gliela avevo data già la polaroid di si fai tu fai 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 due cose io sto qua guarda fai 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 això si è lui apri la cazzo di porta per favore Dirle che il momento è perfetto Oh Gesù Apri la porta madonna Apri la porta Ah oh dai Per favore Ti prego Sì Madonna sì ti prego Che fai i tocchi che cazzo fa Che cazzo fa tocca Cazzo fa tocca Adesso si baciano Beh noi siamo tipo il terzo incomodo Cosa? Diamogli l'orologio Dagli l'orologio No 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 ce l'ho io l'orologio Merda Ah no non ce l'ho io Ok non l'ho preso Stavolta non l'ho preso Dai è finita Ah no ci si mi? Amici Proprio ormai Monster è mio fratello Diceva la parola Mostro È mio fratello Cosa sta succedendo Mostro È chiaramente stato mio fratello Ah è un fratello Adesso è uscito fuori il fratello Io sono il fratello Adesso si scopre che io sono il fratello di lei Chiamato Dalia Cosa sta succedendo Certo No ovviamente non è finita No non è finita il cazzo Che è finita Non può essere finita così Mi lasci il sospeso il fratello No Non sapevo io non lo so non lo so allora allora devo devo parlare con lei devo parlare con lei di più però devo risettare tutto come era prima quindi devo rifare la chiamata esatto deve parlare del mostro perché lei sa le cose quindi adesso devo comunque nel dubbio devo prendere la foto sì però sta cosa della Polaroid è una merda sta cosa chi la deve dare lei è una merda cioè veramente una stronzata e così lupì e si tranquillizza va bene ok così si calma subito fate che ridere se non trovava l'orologio cioè bastava poco è molto grezzo è una bella idea è una bella bella idea molto carina però estremamente grezzo peccato hello hey please nooo non penso che sia una buona idea non penso che sia una buona idea si incazza no si incazza è proprio ringraziato perché non gliel'ho detto secondo me si incazza e basta allora moglie dobbiamo fare un lungo discorso io e te moglie moglie si a thunder allora allora prima dimostriamo che la giornata ricomincia così mi sta a sentire la notte si no ecco 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 no ti rendi pia pia questa cosa per carità dalle tieni moglie tieni ma non possiamo parlare ancora tipo il momento perfetto del dolce ecco il fratello omicida eh quindi grazie e vabbè aspettiamo che arrivi perché eh no inutile eh allora abbiamo aspettiamo che arrivi eh niente aspettiamo vabbè aspettiamo che arrivi ok ma ormai siamo amici col poliziotto ora arrivo i don't even know what questions to ask i guess i guess i mean the good news that's it that's the secret ma lui ma lui non lo sa sì possiamo parlarne dopo però però penso che ci siamo cioè siamo ormai fatta cioè siamo là mancano gli ultimi passaggi l'abbiamo siamo al collo di bottiglia ormai perché sì vuoi aprire io ho paura ad aprire io non voglio aprire perché se no ho paura che mi attacca apri la porta vai 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 sì è lui è lui apri la cazzo è lui sì perché la cazzo ti hai 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 Ecco Ok Dai fai vedere Ecco Ok esatto Ok stiamo accelerando Forse non serve neanche la foto Lì è il tocco magico E' così simbarazzante stare a vedere questa cosa Lei sa e sa pure della figlia quindi No vedo secondo me glielo devo dire Lui si incazza se glielo dico Eh no 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 Entrerebbe più incazzato che mai Sì Mi smelo di dreams grazie Sì ma il fratello Eh sì Sì dai 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 o È sicuro Dalia È il fiore È la cosa Lì è il nome della bambina Lei non se lo ricorda Lei non se lo ricorda Sì sì La tata Il fiore della tata Il fiore della tata Pepepe Pegetto inculato L'ho capito Pegetti foto Aspetta Aspetta Vabbè Allora la foto non serve La foto non serve Però io nel dubbio la piglio Sì sì Bacini Bacetti Vai Bacetti Bamba Servirà anche per darla a lei Però comunque Lei non l'ha tirata fuori stavolta Lei non l'ha tirata fuori stavolta Sì ma io la faccio tutto uguale Per carità di Dio Ci manca solo che Non rompere Devo chiamare una ragazzina col cancro Forse il fiore Non so se serve il fiore Perché c'è anche il fiore qua Forca Fiore Niente Non le piace Non gli piace il fiore Vai via Non mi fa fare niente col fiore Posso tagliarlo Forse lo devo tagliare Forse devo tagliarlo Col coltello E lo prendo E glielo faccio vedere Non lo so Eh Ma una cosa così stupida Ma sei un pazzo E' un pazzo Forse devo aprire Aspetta Fammi vedere Forse devo aprire Why? Come why? Sì Sì però non ti incazzare adesso Perché non è il momento Aspetta un secondo Allora no Il passato Questo non ho motivo Per se cosa le so già In teoria Vabbè questo pro E niente Vi ho dato tutto No minchia la Polaroid Via la Polaroid per carità Ok Basta Qua ho il festito da bebè Basta Aspettiamo La tutina a lei devo darla Oggi è su Perchè continua a dire della tada Sì ma infatti la tutina Penso che sia per il poliziotto Non per lei Perché lei Lui che parla del fiore Sì apri la porta Io non la tocco la porta Io rischio di fare Sì ma infatti va data a lui Secondo me va data a lui Quando lui dice qualcosa di floreale Faccio tipo questa Ah sei giusto Io mi metto in posizione Guardo No 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 Per carità Non ti muovere Che si incazza Che tappa Facciamo io Sto senza mani Per carità Si si Su un vestito C'è la fiorellina C'è la scena C'è la scena tutto con la porta aperta comunque ho paura di sofficare le cose quindi lei non c'entra niente almeno non siamo sposati con un'assassina io non faccio nulla aspetto che tutto segua il suo corso non mi vado prima se no mi dice perché mi stai dando i vestiti a bambina mi prende a pugni e poi mi strangola aspetta tieni guarda tipo questo no no Ok, ok Che cosa? Che ne è? Ma magari un'altra Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Hey, come on, snap out of it. Look, I know this is a lot to drop on you. But I gotta know that we're on the same page concerning these feelings. So consider your answer to this question very carefully. What do you want with my daughter? I can't just stop feeling for her. You wanna know my answer? Yes, I do. Look, maybe... Maybe she doesn't need to know. Maybe we can just be happy. What? We just keep this from her? You expect me to stand here and say nothing? Well, you just fucking dance around like nothing's wrong? What if she gets pregnant? You want me to just keep this secret from her? From my daughter? We just pretend to be happy? I don't know. People pretend to be happy all the time. You don't love her. I don't know anything about what's happening now. She deserves better than you. You fucking idiot. And she killed me. You are so naive, so stupid. You're so naive. You're so naive. Oh no! Oh no! What the fuck? We both are both the fuck! Why are we the brother of her? Siamo stati noi Siamo stati noi e l'abbiamo dimenticato E quindi Farò tre lastri Oh mio dio E il padre non era d'accordo Perché diceva ma ti sembra Normale Però lui non lo sapeva in teoria Cioè il mio dubbio adesso è Quando hanno avuto la relazione Lui lo sapeva O glielo ha detto il padre E lui ha abbozzato Cioè lo sapeva fin da subito Che erano fratellastri Cioè la 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 moglie nostra Nostra sorellastra Non lo sapeva D'accordo Ma noi lo sapevamo A questo punto il dubbio è questo Bene Tutti i bacini che ci siamo dati per adesso Non lo sapevo L'ha capito L'ha capito Il padre glielo ha detto Lui ha ucciso per lo shock Vabbè Vabbè Si è scappato Ma neanche l'ha voluto Ucciso per lo shock Cioè si è stato L'alterco Insomma Non è che l'ha ucciso a sangue freddo Perché sembrava Cioè Per come è stata presentata la cosa Sembrava Che era stato ucciso a sangue freddo Invece comunque c'è stata una colluttazione Una cosa Ok Ok Ehm 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 Il momento perfetto per il dolce Allora io adesso faccio una cosa Che ho letto in chat Però Se è vero porca puttana Perché Perché mi dovete dire le cose Di chiederle del libro Perché me l'avete detto Cioè Perché Ora vediamo L'ho letto Non faccio finta di niente Ma dico il motivo Cioè proprio vi prude il culo Non potete Non potete Poi ora Magari non è vero Però dico Magari così mi sa sentire Ok 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 Va bene Sì Sì ma non so che devo fare Non legge più Quindi non è vero Quindi niente Devo 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 Confessare Basta Non capisco No No Prima chiamo con la figlia Qua Perché sennò Questo si incazza Per verità Sì Sì Cioè io spero che veramente non c'entri niente il libro perché sennò mi girano le palle Scusatemi Cioè non c'è nessun motivo di dirmi cosa fare Di che sei tu l'assassino No Possiamo parlare Sì resta Allora senti Viglia la polaroid Lei Dove essere lei Non moglie Lei No Poliziotto No Passato Non credo che sia una buona idea Allora Sinceramente qualunque cosa Qualunque cosa fosse Avessi scelto secondo me col Col padre Sarebbe andata allo stesso modo Qualunque scelta avessi fatto Secondo me si sarebbe incazzato comunque Quindi quello non è Rilevante Però dirglielo Secondo me No Vabbè proviamo I don't know how to say this I've forgotten a lot of things that I'm just remembering now Things that If I could go back I would have done differently Non so Non so cosa è peggio qua Why not both Eh You're a nanny From their father's affair What about her Her name was Dahlia She was my mother What Your dad found me after your mother passed It's Me I'm your brother What are you saying It was you You killed him And then Oh my god I'm going to be sick I'm I can't handle this Why After all this time It was self-defense It was him or me And you just forgot to mention it You You're fucking disgusting I am so sorry Sorry Ehi You married me I'm pregnant with your baby You animal Ehi 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 I just I I forgot it all Somehow I don't know how But I did And if I could go back Baby you are my only family I love you I love you so much Don't you fucking dare Fucking liar I'm trying to tell you the truth right now And Look you You've been lying Oh you're blaming me now No No I'm just Fuck you I'm leaving Don't be here when I come back Listen to what? I'm done Do not try to find me I am done Oh okay I'll listen to him But honey Yeah I'll call you back in a sec Excuse me ma'am Sorry Will you follow me to your apartment please I'm with the police Wait No Make a noise And I'll break your arm Back inside Now Thank you What's going on? I have a warrant right here This will go easier if you cooperate Wait Stop I have something you need to see What did you say? My husband just confessed He's the killer What? He's the monster He killed my father You're blaming him? Pathetic But it's true Enough You're under arrest That's enough Hold still Oh my God I didn't do it Oh my God Oh my God Si notte un nome Ma in italiano Il mio dubbio è Si chiama Cioè Si stai il nome Il mio dubbio è In inglese Oh I don't know This isn't a team Of a person No There's a piece of evidence I need I know it's here He's the one He killed my father Tell him Just tell me where the watch is Sure Sure You're not Sure Sir I didn't tell him Listen Where's the watch? Sir Fine Sure Sir Sir Listen Sure Listen Sir Sir Sure Sir Sir Listen Listen Sure Listen This is a mistake Babe Perché mi sta uccidendo? I don't know You don't have to Hurt me We can talk this out All right Let's get in easier Lo so che deve finire La conversazione Con la Fia Ma io non posso Calcolarmi I tempi precisi A finché Lo stronzo Finisca la conversazione Con la figlia Porca puttana Madonna Che peso Cioè Per Questi sono problemi Di programmazione Cioè Non Per stronzate Uno perde Un intero loop Per Una stronzata Per mezzo secondo Perde un intero loop Che palle Chiama la stronza Bah Come faccia Federmi Perfetto Eh Non glielo dico No 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 Io lo dico Io lo dico io A Io lo dico io A lui Non Io Non vedo come Se ne possa uscire Una persona Da questa situazione Comunque Andra Moglie Lei Lei Niente Non si può parlare Possiamo? No Parliamo dopo Va così Prendi il libro Perché Perché secondo me Non me la vedo Secondo me Questa cosa Il libro Mi puzza Mi puzza Troppo Questa cosa Libro Forse devo ritornare Nel loop Col papà Devo ritornare Nel loop Col papà Allora Parliamo con lei Riprovo Riprovo col libro Le lascio leggere il libro No Allora Il libro Andiamo Rimostra Si 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 Ti ha avuto l'infarto D'accordo La colpita I did What are you He's Your brother He killed I have a fucking I have He's the one That polar It proves What is going No All right There's more He's gonna But he's What His daughter He was Yeah Here he has to take the picture Ok Ok Allora No Aspettiamo che arriva E basta Io mi metto qua Hey Bumblebee What's up I didn't think I had any other family What do you Oh Gesù Honey I think you got I don't know anything about him What the Did they threaten I don't even know what questions to ask I guess I mean The good news That's it That's the secret That's the skeleton And now that you know it I mean If you'll still have me You can start fresh Clean slate All right Is that him? Is that him? All right What do we do? Is that him? What do we do? Do we open the door? Come on You want to talk? Okay We'll Tell him The truth All right I think I can open him But I don't trust You think you're funny? Calling my family What? What are you talking about? No more gangs Hands behind your back Non penso che servo a più vestiti Cioè Gli ho già fatti vedere Lo so che ho già il nome della tada Sapendo il nome della mamma Quindi non serve più nuda Vedi ma non serve neanche la polaroid Secondo me Il momento perfetto Per il dolce Magari adesso torno Magari devo fare qualcosa nel passato Il tocco Dobbiamo evitare poi Se tu c'era Esatto Dove vedermi di volta sta cosa Non vedo come questa Possa essere un buon finale Beh T'ho mandato a far culo T'ho neanche ascoltato Dunque cosa io dica È irrilevante Per quest'uomo Ti prego non dir Ti prego Diglielo tu Diglielo No Diglielo Oh porca Ma perché non glielo dice Ma perché non glielo dice Perché non glielo dice È impossibile È un po' di cazzo Sì è Eder Non rompere i coglioni Basta Sì sì Ok Perché non mi Oh Oh We gotta clean that closet Why are you in the closet Hello Hey Please My wife I don't Hey He doesn't Ok Perchè secondo voi Io facevo un'altra live Su questa cosa Continuavo il cazzo Cioè lo mollavo piuttosto Cioè non ci faccio un'altra live Come why Vabbè senti apri sta cosa Bravo Ok Ok You know Wise man once said Wow Never Yeah Sì ma vale che Il problema non è la storia Il problema è il gioco Perché non è che La storia è bella Sì la storia è bella Sì ma non è un film È un videogioco Non basta la storia bella Se il gioco Cioè se quando il gioco Ti fa uscire fuori Dall'immersione Ti fa scassare la minchia Specialmente se è un gioco Narrativo Che è la stessa cosa Che mi è successa con lei E soffier due Comunque Appunto Che c'era quella parte L'apirinto Che era una cacata Vabbè Sì è il poliziotto Allora l'aspettiamo Parliamo del poliziotto Aspettiamo che arrivi Aspettiamo Il poliziotto Sì 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 Aspetta Ah no Gli devo dare la foto Aspetta Sì sì La foto Secondo me non serve più Però Sì Ok Now we wait Go listen Right? Oh Oh It's insane All these years I thought This is crazy Sì No è un peccato Perché è veramente figo Questa inquadratura La recitazione È molto buona L'idea del lupo È molto figa Senti se mi vado A prendere la scossa Va un po' più veloce Questa cosa Quando amici Lo aspettiamo Fammi arrivare Alla scena In cui apre la porta No No Tutta questa manfrina Sì Con il rischio di sbagliare Io non la tocco la porta Perché non me la voglio Riesentire più Questa è la scena Questa è la scena È... È... È che lui? È che cosa facciamo? Cosa facciamo? È che abbiamo? Cosa facciamo la porta? E poi anche questa cosa C'è qualcosa che devo farti vedere Non è vero Cioè sono collegati i dialoghi In maniera sbagliata Perché c'è qualcosa che ti devo mostrare È legato alla Polaroid Ma non gliela mostra più Quindi c'è rimasto pure Un pezzo del dialogo sbagliato C'è qualcosa che devi sapere Non che devi vedere Perché lei non gli mostra niente Gli parla del fratellastro Senza la Polaroid La Polaroid non serve più Perché il fatto che lei non fosse presente Non è importante Perché si è passato allo step successivo Che è Non sono stata io È stato il mostro Quindi perché dice Devi vedere C'è una cosa che devo mostrarti Non è vero Non ti devo mostrare niente Perché è stato programmato col culo Perché sono tre frasi Incrociate Che cosa ti devo far vedere Non è vero Mi prendo l'orologio E lo butto nel cesso Dalla finestra Perché io adesso so che devo fare Non lo so che basta Non lo so che devo far vedere Ma non lo so che non lo so guardate Non è vero La cosa stai Non so che devi farlo Sì, sono andato ora. Espere un po' un secondo. Qui, prendere la guardia. Hai bisogno di più che io. C'è lei. Ecco per il vostro figlio. Iniziamo con la nonna, poi andiamo da qui. C'è un po' di più. 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 Ah, qualcosa di flowery. Hey, listen. No, no, non, non. Allora, non altro altro, non? Ah, qualcosa di flowery. Daphne, Daisy, qualcosa di così. Perchè user, ragazzo? Perchè? Perchè? No, basta. No, vaffanculo. Basta. Ragazzi, no, mi rifiuto. Vaffanculo. Basta così. È stato un piacere. Eh, ci vediamo domani in live. Non lo, no, no, no. No. Non lo vedo, non è. Non lo riprendo. No. Basta. Finisce così la live. È stato un piacere. 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 Grazie a tutti.